Riparte da Gravina il campionato del Taranto, trasferta ostica per il rosso-blu aumentata nel coefficiente di difficoltà dalle non perfette condizioni fisiche di Ferrara e Matute. Mister La Terza potrebbe tornare al modulo 4-2-3-1 tradizionale o riconfermare il 4-3-3 visto all'opera a Casarano, da non trascurare anche l'assetto tattico 4-4-2. Ad ogni buon conto il tecnico Ionico avrà a disposizione il neoacquisto, il centravanti argentino Guido Abayán, una freccia in più nell'arco del reparto offensivo. Queste le dichiarazioni di La Terza alla vigilia del match contro il Gravina sull'avversario e sul nuovo acquisto. Sarà il solito Taranto dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia di fare la partita, di lavorare con tantissimo entusiasmo. Sicuramente dal punto di vista tattico abbiamo la possibilità di avere un uomo in più all'interno della Rosa. Però il ragazzo è arrivato giovedì e adesso dobbiamo un attimino valutare, stiamo valutando il tutto. Abbiamo anche delle difficoltà dal punto di vista di qualche acciacco, quindi la formazione sicuramente domani la valuteremo in pieno. Per il momento sarà sicuramente il solito Taranto, con tanta voglia di fare la partita. Da punto di vista tattico valuterò poi tra stasera e domani quale sarà sicuramente il miglior assetto. Qualche problema per Matute, gli altri come stanno? Gli altri stanno tutti bene, a parte qualcuno che negli ultimi due giorni ha avuto qualche acciacco. Quindi per non rischiare nulla, visto anche le tre partite che abbiamo in dieci giorni, dobbiamo essere bravi a gestire queste situazioni. Ferrara rientrerà con il gruppo, però dobbiamo anche valutare se sarà la possibilità di rischiare qualcosa oppure no. Per il resto stanno tutti bene e sono pronti per questa partita. Grazie. 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 Grazie.